Street Food Lovers, dal 27 al 30 giugno il TTS Food sbarca per la prima volta sul lungomare di Civitavecchia precisamente in Viale Giuseppe Garibaldi per farvi vivere una passeggiata sul litorale ricca di gusto e divertimento preparatevi a scegliere il vostro piatto preferito tra centinaia di ricette tradizionali italiane come panini con carne di scottona, pasta artigianale, fritti di ogni genere, arrosticini abruzziesi e tante delizie del sud Italia i nostri street chef vi porteranno anche in giro per il mondo tra paella, burritos e carne smoke BBQ e dopo aver provato tutto questo non vi resta che un dolce caldo appena fritto oppure, vista l'estate, una granita siciliana al TTS troverete in esclusiva la nostra birra bavarese, ovviamente cruda e non filtrata e la nostra acqua in brick che aiuta il pianeta e per gli amanti dello spritz vi diamo appuntamento nella nostra drink zone illuminiamo il lungomare di Civitavecchia con giochi di luce, tanta musica e i vostri sorrisi perché voi siete i protagonisti del TTS Food e i vostri sorrisi grazie a tutti